I carabinieri di Monte Corvino Pugliano hanno tratto in arresto Domenico Conteggiacomo, 19enne di Bellizzi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari insospettiti dall'atteggiamento dei tre occupanti di un Apollo, mentre usciva da un parco residenziale sito in località Bivio Pratole, hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo ad una loro perquisizione. Durante l'operazione effettuata sul 19enne, hanno sequestrato un pezzo di ascici del peso di 45 grammi, che il giovane nascondeva negli indumenti intimi. Espletate le formalità di rito, Domenico Conteggiacomo è stato prima sottoposto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione e successivamente accompagnato presso il Tribunale di Salerno.